non sono pronta nella vita muoviti muoviti io sono partita è partita tirissima ecco 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 ci siamo quindi è il terzo livello che dobbiamo registrare giusto? vabbè io ho avviato hai avviato? ok iniziamo la valle fangosa livello numero 3 ragazzi è venuta la parte cos'è terza? no la parte seconda livello 3 parte seconda quella cosa lì c'è qualcuno che sclera lo sento perché sono il mago della malora? ok io sono la zazzi la zazzi c'è roba ciao voglio dire un'altra cosa oh vedo uh attenzione ma questa cosa? cosa è questa roba? vedo uh lol grande Iris cosa è che ha rilasciato? io c'era il coso lì sopra c'era il nido lol a casaccio oh venite qua venite qua ci stiamo vedendo un botto di robe salite e poi non mi faccia volare io volevo volare andrea ma non fai gli scherzoni andate su dove devo andare? di qua? qua ok ce l'abbiamo fatta avete preso tutto? ok sì credo di sì le tre marie aspetta non lo facciamo qualcosa perché mi sa ecco no cosa fai? c'è il tizio ho capito ma c'era il nido così glielo lanciavo sopra ecco tipo così ah ma la tattica che ne so basta io devo arrivare là sopra chi mi aiuta? ci pensavo che era la più come merda sei morta? 30 che è di 50 e sì eh ciao dobbiamo dare andare salta qua mia tonzella ho paura ho paura mi sa dove aspetta ma dov'è finita Iris? sono morta mi dovete risuscitare le prossime cose ma c'è ancora una mamma la sopra c'è un coso qua c'è un coso attenzione allora stai vista eccola là stai salendo? vai e ce n'è uno anche in alto adesso ho visto ho visto cala ouch attenzione la cassa la cassa no non mi fai andare ma dov'è? su qui su vabbè andiamo avanti esattamente sopra dove sta saltando la valle sopra esatto attenzione attenzione che bello non fare fatti guarda porcotici ancora basta su 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 vieni che bello cosa c'è qua? guarda adesso cadono 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 è una è rimasto lì vabbè che è andata l'altra scusa l'hai presa? no una è su l'altra non è caduta giù ma 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 allora va giù no vabbè dio va bene io e platform mi seguiamo è caduta giù da queste parti credo oh mio dio la sotto io la vedo dove ci sono gli spuntoni vedi una roba che brilla attenzione attenzione giusto non abbiamo un problema qui l'hai vista dove è? no guarda bene dove c'è la cassa dove c'è la cassa che aveva fatto qualcuno eccola la madosca le pesa le pesa iappa iappa sto per morire aspetta Iris che ti faccia rinascere sì se non morire mi c'è il nido pure ah ah c'è una bolla dietro c'è una bolla dietro guarda vieni Iris ecco sto per morire uh che bello salta che cacchio è ma che cosa mi scrivo questa roba il tronco ma mi sa che c'era qualcosa dentro il tronco forse meglio andare a controllare tanto mi ri ma si può andare dentro il tronco io tra parenti ma si può andare veramente ma si magari ha buttato qualcosa no no guardiamo giù ma è meglio verificare anziché ma perché c'è l'altro anche una trappola non può entrare lì c'è una roba guarda come è stata Iris guarda l'agilità che è lina di Iris guarda che guarda qua una ma che cazzo è successo trofeo guadagnato non sono stato io lol io l'ho preso non so cosa sia nemmeno io perché ho dato una ho dato una botta con la roba lì con la parete oh merda quella parete ma passate di qua lascia dei piedi lol aspetta che roba qua dammi questo qua guarda come muoio guarda come muoio io non so che cavolo sto facendo non c'è niente di qua non c'è niente io ho preso già un cosino no dico nascosto sugli alberi no no non credo dobbiamo controllare sprupolosamente voglio mangiare pizza ve lo dico non vado a eliminare per favore che se tu mi è nascosta non l'ho mangiata eh vabbè ha mangiato giapponese tutto quella roba adesso non ti lamentare vabbè vabbè hai vinto tutta la giapponese attenzione a questa gigantesca e fatti questa beccati il congelante attenzione a quello là in alto adesso di merda ma già che oddio morto? c'è un cuore là? no solo un cuore e un amore allora su a sinistra ma io che ho bevuto il crudino il crudino il crudino il crudino la uso? la uso ecco che cavolo la mano da usare lol ah di qua direi se guarda come muoce oh Greta scusa ma una volta che ho tirato la leva ah si tieni un attimo che c'è il fuoco dobbiamo passare oltre mi sa che un po' sforzo però aspetta facciamo così prima stringi questa a me fa andare qui e fa fare tipo c'è qualcosa qui ah c'è il nogazzo guarda come la cosa di prima au ecco grazie sono passata avanti eh ma io come passo? ti arrampichi è vero? come ti arrampichi? con la ladra ma dai non voglio oddio lol ho schiacciato questo colso vedi che c'è la cosa c'è il masso lì devi buttare il masso penso non lo so ma io mica posso passare di qua mi avete tradita beh intanto nuovo livello vediamo cosa posso fare voi cosa avete fatto? ho due punti abilità cioè io come passo? scusate mi avete abbandonata andiamo avanti tanto poi lei si teletrasporta ammassate che c'è lo spawn no c'è lo spawn ammassati è vero mi ammazzo mi succede grazie mi avete mi avete portato balsucido è una parola blu whale benissimo blu whale in action ma se qualcuno fa io posso fare in poso qua sotto non è qua c'è fuego qualcuno può fare la cassa non la cassa vabbè veniamo magari seppure con la cassa aspetta fammi mettere il mio mio peggio qua ecco fatemi stare così metti che si farà questo proprio del poso ah ce l'ha lei no lo devi fare pochettino più lunga ora ce l'ho mai ok ok metti cioè deve stare qua praticamente così aspetta tacci o posso finci scusate così forse così vediamo vediamo questa architettura moderna dai sono proprio curiosa che si gira che si gira l'ho preso della tavola ma quindi se una fa il trofeale da tutti che culo mi piace mi piace questa cosa dai mi piace specialmente perché non fare un cazzo allora dobbiamo fare altre robe qua col mago perché là ce ne sono intanto altre due guardate come volavo le biade ecco mi suggerisco guardate come sono le giandre guardatemi guardatemi che bello ma io c'è un coso qua ma c'è un coso c'è un tubo di nuovo questo lo mettiamo via che non serve più attenzione sto per morendo è questo coso io ho liberato la strada sotto ma sopra ce l'avete fatto ad andare questo coso va messo qua in cima secondo me guardate ho messo un coso così no ma mi sa che basta solamente vabbè col mago via qua che faccio col mago qualcuno no allora ce n'è un'altra grossa là sopra come si arriva là sopra volando attenzione linea a sinistra no vabbè avete rotto le tasse ve lo dico vai a no allora vai su 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 dritto un attimo su piano piano su 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 dammela ok di qua c'è qualcosa no vabbè questa è la da qui dobbiamo andare da qui non si continua fatemi capire perché io ho sbloccato il passaggio qui guardate mi sa che dobbiamo andare su da sopra ok allora ho preso solamente la roba sicura che qua non c'è niente a destra? senza il tubo no ho bloccato praticamente c'era il tubo e facevo uscire il fuoco verso di noi e c'era il passaggio chiuso quindi io se qualcuno ci aiuta magari no no adesso ci servono le tue casse magiche si cosa devo fare? ma non dovevi scendere dovevi stare su e portarci su no scusate va bene questo tubo vai se niente perché ci piace vincere il passaggio no se volete ecco sale su sta cassa aia aia allora nel frattempo io bevi il caffè ragazze bella comoda ma vuoi lasciare sta cassa perché non si lascia sta cassa salta qui ma chi è che sta tenendo sta cassa sorella lascia quella cassa di cassa ecco vai salta Iris vai in alto e poi Greta aspetta Greta e poi salvate me salvate il soldato Greta salvate il soldato Greta non si vede non mi fa salire le faccio ancora un po' più in basso non ce la faccio la vedo la vedo la vedo volare su niente Iris vieni qua salta qua versione mago e fai una cassa qua? fai una cassa per Greta dall'altro lato come si faceva farla? con R2 con il disagio ora me la da in testa attenzione vieni vieni mi sta prendendo un infarto aspetta un secondo ok vai 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 tirami su non si sapeva sputare il caffè ciao guarda che mi incastro guarda che mi incastro allora di qua niente ho preso tutto io qua e c'è roba davanti due secondi io qua vamo di qua ah sopra sopra fermi 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 qua qua c'è roba ma si deve distruggere tipo quella attenzione ci voleva ammazzare ah ma mi sai dobbiamo andare sopra sempre perché c'è qualcosa da questo lato ah ma questa sei te non c'è niente da quel lato allora su di qua a sinistra no qua no tipo no lì c'è la roba l'hai presa prima e qua non si va da nessuna parte qui dobbiamo scendere quindi andiamo giù dietro 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 qua oh shit shish guarda qua guarda qua la madosca che cazzo ma state ridicando quei due mi sa questa impressione allora mettiamo queste cose stavate ridicando tu e Greta perché vi prendevano ammazzate così lol uno qua attenzione che stavo già saltando le solite due l'altra cosa va dentro un attimo che ve lo porto un secondo un po' che giuda ammazzate piazzalo là sull'altro fuoco piazzalo bene ma ce ne sono due o tre due eh due perché no e poi fare comunque vai salti qua e poi prendi l'altro è una posizione molto scomoda questa guarda sopra guarda sopra vai guarda lì la strana dice che c'è la boccetta qualcuno mi aiuta ah no aspetta aspetta va soccoso è su no qualcuno di voi prende quella bocciata fantastica c'è anche un cuore aspetta faccio salire io fa incontro guarda che mollo ah ho preso la boccia in che posizione sono bloccata qua cribbio che cazzo per la peggio maia che muoio guarda che muoio guarda che muoio guarda che muoio guarda che muoio comunque ho preso la bocciata l'ho presa anche no l'ho presa si l'ho presa eh io come passo oh c'è una mega boccia qua attenzione ah e chi è e torna qua Greta eh brava Greta ti ho fatto andare di là non lo ricosate aspetta c'è lì il coso dello spon attenzione senza morire magari no aspetta che stai con ma questa cosa vabbè io faccio così non puoi non puoi ah è così sì ma quella bollia cosa serve cioè lì per è per posare eh qualcuno può salire qui magari mi fai calire qualcosa come sono salita io con la madra la ladra ah no così volgare allora ti c'è rafficata guarda ti c'è rafficata eccomi 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 guarda come muoio aiuto 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 mi sono boccata aiuto aspetta Greta no guarda come muoio lol non ci posso fare aspetta ok vai no mi fa andare su aspetta c'è un colto ok vai 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 qua c'è c'è altro su a destra a destra a destra a destra a destra ok vai nuovo livello e adesso finita no guarda che sono morta ancora lasciatemi qua lasciatemi riposare in pace dov'è cosa va dare animale aspetta che mi ecco qui ce n'è un altro quindi allora che ora è animata figlia nuovo livello tre punti abilità voi cosa avete sbloccato vabbè io faccio le fracce esplosive io ho sbloccato la cosa per il mago quella fare della cosa della tavola per fare il fratello cos'è la cosa del tavola quella è la tavola che fa quella cosa ah la fruttività scomparisce però perché io sono se sono le spavate sono sempre qua nel disagio a sola ammazzatevi che vi faccio risuscitare qua venite ammazzatevi fate blue whale quando vuoi ammazzarti non ci spetterevo guarda quanto ci spettere l'immortale Greta è l'immortale chi sale sulla rana allora fate così non si può andare sott'acqua si sott'acqua c'è roba ragazze sto andando sto andando attenzione ho preso roba c'è nient'altro? qua c'è roba ma che cazzo sta cassa di merda mi sono bloccata perché c'è una cassa della madonna adesso affoga attenzione guarda come affoga potrebbe anche succedere quello è il dramma oh guarda qua si ma ragazza a me che cazzo fa passare oltre la rana Cristo di un dio ho trovato un po' se ne sono andate così così è la collezione andate a morire ammazzate tutte e due soffocati 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 ti stai soffocando ma io ho visto cadere una spada ma hai visto ha avuto le visioni e basta no ho visto cadere tipo una spada mi fate gentilmente passare all'altro lato oppure no lol io sono gentilmente qua ai cami che sto ammazzando i codi qua maledici ah eccola qua si bello che torna indietro Iris si era sulla rana e torna indietro guardala guarda che non va guarda che non va guarda che non va no ma l'ho fatto andare indietro la rana è la rana che non si fa andare indietro esatto ma basta che sei lì basta che lol lol salve lol no ma perché scivola allora aspetta no ti faccio passare io vai vai è un disagio è un disagio io sto qua allora tieni 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 no porco di vedi che scivola vedi solito è un po' sulla mia cosa che la sto trascinando da qua aspetta 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 mi fa salire gentilmente sulla giattera quello che è allora aspetta ancora poco non mi fa non mi fa non mi fa causare lol guarda che finisco sempre in acqua guarda che finisco sempre in acqua iris vieni qua gentilmente ma qua dove? diventa mago salta qua sopra eh ma è lontana aspetta non faccio saltarmi sopra se c'è la cassa vieni vieni sali qua e poi sali qua e adesso fai la cassa per Greta la salgo qua sulla rana nooo devi stare sulla cassa la rana scivola fai sulla cassa e fai la cassa fai la cassa Greta mica io la devo fare lei e te infatti ok vai 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 trololololol oh no si ci sono ci sono vai 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 per il studio vai fuggiamo da questo e cade in acqua oh ho trovato qualcosa ho trovato il mondo qua sopra avete preso tutto? no c'è stifo qui sopra no perché devo stare lì c'è la cosina bastardo ho trovato c'è un'altra cosa qui presa e tu? ah sopra ancora eh si vado ho trovato oddio si non è possibile lì ok ok ah quello è finito giustamente che c'è nel lato dei cieli qua? nooo e ti guarda uuuh la madosca guarda nooo benissimo guarda come prende fuoco guarda come prende fuoco guarda come dondolo guarda come dondolo c'è roba qui? si ma ora si vuole che cosa colava oh mia non ce la vuole ma fungo mi vuoi dare la spinta oppure no ecco io ho ammazzato un coso e qua c'è un coso guardate che qua c'è un coso sono tutti cosi non potete mai rispettare fuoco o no eh sali qua sali qua vai di ma dopo l'avete preso tutto sì? sì sì muori mamma poca tuda poca tuda guarda come muoio guarda come muoio e là non mi fa salire bolla questo è il dovere c'è una gigabolla di là da prendere di sopra perché io muoio male brava 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 ma sono viva? ma te mi aspetta facciogli la cassa salta Greta si ma qua c'è roba da prendere dove? dazzo a sinistra qua ma non ti fa andare perché c'è la corrente dobbiamo tappare un attimo ma sei sicura da lì ti dice yappa tu puoi fare quella cosa col mago falla qua così guarda in questa direzione così così raffanculo arrivo subito intanto sto qua al respawn ok? arrivo ok mettila aspetta la metto io aspetta e girati ecco no ok la devo tenere mi sa tu tienila lì vado non mi fa andare ok non mi sta facendo andare non mi fa andare oh mio dio allora aspetta troviamo qualcos'altro perché allora c'è il coso lì e c'è questo qui questo non ti può afferrare no però forse si può tappare adesso si è fermato lì dove? adesso c'è vediamo se con questo funziona leva la tua cosa io non ho parole che stiamo facendo cosa ho disagiato no niente non va aspetta la ricerca dei costi ok ma perché scusa non va allora facciamo un'altra cosa facciamo le trasciniamo fuori una lol I'm a genius I'm a genius lol ma se vieni qua non si muove la bolla siamo pesanti guarda che non mi spinge guarda che non mi spinge oddio a me fammi direttamente la cassa perché c'è stato tipo 3 quarti nooo spingimi con sto coso Greta con cosa? non ce lo spingere col tuo con la tua cosa di legno aspetta ti faccio direttamente se è col coso va vai salga salga nel giro arrivato qui si è moruta mi sa si guarda che c'è testa di me aia mori male ti ho detto di morire ma devi morire oh è moruto ok eccomi qua io sono andata via e voi siete ancora qua sì perché ci avevamo bloccato per prendere la roba ok uuu cuore 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 sole aiia diciciona ma quanto ne sono qua ahia e ciccio allora ragazze chi sale lì? io 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 aspettati dove alright Ah intanto Un po' bintè Ok Che cacchio ho fatto? Si devi tirare la leva No, rifaccio così Ok Tiro pure questa leva Uh ma c'è roba di da prendere Aspettate perché Ma non posso far ricadere tipo questi Un attimo La robata No, non va bene così Mettete quell'altro Girato verso sopra magari Mi pesano i tasti Può tenere così questo No, tenete questo Così magari Grazie Ma qualcuno Si non sta tenendo Chi sta tenendo cosa? Io non sto tenendo niente Sono la Ma non la vado da soli Ma non la vedo più Aspetta Ah ecco che si è spostata da telecamera Non vedo più Ah ma quello sta tenendo il poso qua Qua devo tenere io Ok vai adesso Ok ma voglio vedere se c'è qualcosa sopra C'è qualcosa sopra Vi faccio una cassa E provate ad andare Vado io Inespiratio Oh my god No Ti vado inespiratio Vai Quindi la strada è a destra oggi Ok Andiamo nel disatto Carino Allora Ciao Hello Hello Mica quante cannes ci sono tutti i modi per parlare del fiore? Oh È morto Mica ma è morta? Si, si è passito abbiamo assistito a un floricidio floricidio fine capitolo ma quanti minuti sono passati mezz'ora mezz'ora per un video eh